Ok, per eseguire questo esercizio vi servirà a fermare un elastico sopra la vostra testa. Con una parte dell'elastico in ogni mano e le braccia tese, tirate verso il basso, dove le braccia sono lungo i fianchi. I palmi saranno rivolte all'indietro, creando tensione ai lati della schiena. Da questa posizione inclinate in avanti sui fianchi e piegate leggermente le ginocchia. Ritornate al punto di partenza e ripetete. Dovrete sentire i muscoli della schiena lavorare. Tenete la schiena curva rispettando le quattro curve per tutto il tempo e la durata dell'esercizio. Tenete i gomiti dritti mentre fate perno sui fianchi.